La vocazione di un poeta è qualcosa di delicato, fragile, una tela di ragno, ma è quello che lo tiene insieme, lontano dalla distruzione. Signora Venabon, che tipo di vita personale, privata, aveva suo figlio? Mio figlio è morto, dottore, e non può difendersi. Tocca a me difenderlo. Mi facevo da ruffiana e lo faceva anche lei, ma lei lo faceva nei posti alla moda, con eleganza, e io come le ho appena detto... Improvvisamente l'estate scorsa, di Tennessee Williams. Regia di Elio De Capitani, al Teatro Elfo Puccini, dal 3 maggio. Questa operazione di eseguite si chiama... Lobotomia Elfo.org